Lo sport al servizio della comunità. Con questo intento il tennis club castiglionese si è fatto promotore di un appuntamento speciale per effettuare le vaccinazioni anti-covid in prima e terza dose. L'iniziativa realizzata in accordo con l'amministrazione comunale e la ASL Toscana Sud-Est ha visto la collaborazione della misericordia di Castiglion Fiorentino. L'accesso libero senza prenotazione dai 12 anni in su è stata una formula che ha contribuito al successo dell'iniziativa. È stata un'iniziativa diciamo legata un po' al mondo del tennis perché molti soci e ragazzi ancora dovevano vaccinarsi però dopo quel fatto che erano aperte senza prenotazioni ovviamente vedo che ne fanno buon uso un po' tutti i castiglionesi e non perché ci hanno chiamato anche da tutta Rezzo, dalla provincia di Siena, da Firenze perché in questo momento terze dosi o prime dosi sono necessarie per tante persone quindi siamo contenti di poter dare un servizio, quello senz'altro. Ci siamo dati da fare per distribuire l'informazione anche nei social, siamo stati molto attivi e fortunatamente abbiamo avuto una bella risposta e come sempre il tennis è a disposizione della comunità e cerchiamo di aiutare il paese e la comunità in queste situazioni che non sono abbastanza, non sono belle. Mi sono limitata a fare da intermediario tra loro e la ASL che ha collaborato direttamente con il circolo per ospitare appunto come vedete il camper vaccinale qua dietro e abbiamo già tante persone in fila quindi evidentemente è stata un'ottima idea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.